Buongiorno, oggi è mercoledì, sono le 8.20, mi sono già messa a pulire, praticamente sono alzata, ho venuto il caffè, mi sono subito messa a pulire, non bisogna tenermi occupata, ho spolverato tutto, ora passo l'aspirapolvere, do una passata ai bagni, lavo per terra e poi usciamo. Ho detto a Marco, stantina prima mi fai pulire, non mi interessa, ho iniziato a dirti che vesti, senti, prima pulisco e poi andiamo a fare una passeggiata, penso che andremo al mercato forte dei marmi, oggi c'è il mercato forte dei marmi che è il posto dei VIP, quindi anche il mercato sarà da VIP in macchina. Ok, ore 9 e un quarto, ho pulito notte a casa, mi sono preparata, ho anche cambiato le lenzuole. Eccoci qua. Questo VIP, mi sento un attimo a disarmi. No vabbè, prezzetti da mercato proprio. Pranzo insalata, così poi dopo mangio il gelato. Niente, come avete visto siamo stati nel mercato forte dei marmi e c'è prezzi veramente assurdi per essere un mercato. E comunque niente, siamo tornati a casa, abbiamo mangiato, mangiato insalata e poi gelato e mi sono messa a comoda. Mi è arrivato l'altro pacco di Shein, questa volta ho deciso che vi faccio vedere qui nel vlog, non farò un video a parte all perché non sono molto in vena sinceramente, quindi lo apriamo, ovviamente poi mi proverò tutto. No, non mi cambio neanche, rimango così con i vestiti da casa, tanto siamo tra di noi. Ma se sentite scricchiolare di sottofondo, sono i gatti che cercano di infilarci nel sacchetto. Comunque vi faccio rivedere velocemente le cose che mi sono arrivate nel primo pacchetto, quello che va alla spedizione più veloce. Per chi magari non l'avesse visto, queste scarpe che adesso sono da un po' insozzate perché io in tutti questi giorni le ho utilizzate. Tutti i giorni, da quando sono arrivate e sono comodissime. Se vi piacciono ve le straconsiglio. Io nell'info box metto il link di Shein generale, ma se vi interessa qualcosa in particolare e volete il link, insomma basta che me lo chiedete e ve lo metto nei commenti. Andiamo avanti. C'è anche questo maglioncino qua. E questa gonnellina qua. Ah, e c'era anche la lucina led blu, ma beh, quella me la sono scordata di là. Ora apriamo il pacco che è arrivato oggi. Ah, ho ripreso quella gonnellina che avevo preso nello scorso, ma qui mi stringeva troppo. Ho preso la taglia più grande, perché mi piaceva troppo. E vediamo come fa. Ho preso anche due magliette per Marco. So che questo era il mio regalo di compleanno. Però ho detto, vabbè, quindi una è questa. Spero che per azzeccato la taglia. Ho preso dei jeans, visto che vi dicevo che quelli che ho mi stanno un po' strettini, perché probabilmente sono ingrassata. E ho preso appunto questi jeans a zampa. Che, cioè, ma chi ce l'ha da prenderlo così lunghe? Ho preso di questo colore qua, a vita molto alta. Maglioncino, perché come dicevo ormai, ho preso cose autunnali. Ho preso questo verde, verde militare, verde pistola, non lo so, questo verde comunque. Ho fatto così. Connellina. Speriamo che almeno una di quelle che ho preso mi stia bene questa volta. Questa, a vederla così, è molto molto carina. Poi bisogna vedere una volta che la provo com'è. Però non è appunto fatta così, è anche bella morbida. Maglioncino nero, con i bordi tutti così strappati. Nero, con le stelle bianche. Qui. A me piacciono queste cose un po' così strappate. Altra maglietta per Marti. Questa mi sa che è sudame. Maledizione. Non credo che possa sopportarla, però mi piaceva questo disegno. Però dentro è diversa, quindi non lo so. Vediamo cosa dice lui con solo a prova. Ho preso del collante. Fatti così? No, non vi sto dicendo i prezzi. Ma porca miseria, non ci sto proprio con la testa. Ci ho finito tutto, non vi ho detto neanche un prezzo. Facciamo che ve li scrivo mentre faccio il montaggio del video. Perché ormai è andata. Altri jeans. Anche questi sono, a parte, lunghissimi. A zappa. Che comunque andavano di moda quando avevo tipo 15-17 anni. Ah, ho preso degli elastici per i capelli. Piccoli, piccoli, piccoli. Perché quando faccio le codine, le treccine, con quelli elastichini che sono tipo di plastica, mi strappo 800 capelli. Quindi cercavo degli elastici abbastanza piccoli, ma che non mi tirassero i capelli. Ce ne sono tantissimi di dentro. Ultima cosa, ho preso uno zainetto. Eccolo qua. Un zainetto a forma di gufetto. Allora, in particolare mi serviva un zainetto con le tasche laterali così belle grandi, dove io metto il cellulare da un lato e le chiavi dall'altro. Perché ormai sono troppo abituata così che tra l'altro, prima di uscire di casa, mi tocco qua, mi tocco qua e vado. E basta. Adesso mi provo tutto quanto. Allora, ovviamente pesco a caso dal mucchio che ho creato. E maglioncino, questo qua. Che è una lunghezza perfetta, direi. E jeans. Gonellina. Non lo so, sinceramente. Maglioncino. Carino. E gonnellina. Forse mi piace questa gonnellina. L'altra gonnellina. Questa è quella che ho perduto nemmeno in più perché l'altra è stretta. Questa è un po' più larga. Ci vorrebbe una via di mezzo, però vabbè, meglio larga che stretta. E... Però non so come mi sta. Fatemi sapere il vostro parere perché sono un po' indecisa su questa. Altre jeans. La zampa enorme. E sono un po' lunghine. Però... La taglia è perfetta. E ultimo gli uccidi. Lo zainetto. Sembra arrabbiato questo gufo. Stavo mettendo a posto, stavo buttando via il sacchetto e... Non male. Mi sono accorta. C'erano delle altre calze dentro. Fatte così. E... Questa volta è andata decisamente meglio rispetto all'altra volta. Sono molto più contenta. Potrei addirittura tenere tutto questa volta. Gli unici dubbi che ho sono sulle due gonnelline. Quella... Ve le faccio vedere. Questa. E quella nera. Quindi aspetto il vostro parere al riguardo. Spero che le magliette a Marco votano bene ora. Non vedo l'ora che si alzi. Così le vedete. Ora metto a caricare il video per oggi. E tornando alle mie ansie, che sono lì costanti, ce l'ho così. L'ansia sulle spalle. Non si vede ma c'è. Volevo mandare una mail all'ortopedico di ieri. Siccome nel foglio che ci ha dato ci ha proprio detto in fondo al foglio. C'è la mia mail per qualsiasi dubbio, qualsiasi domanda. Non esitate a scrivermi. Stavo pensando di mandargli una mail. Girandogli la mail della dottoressa del reparto di neuromuscolatura. Quando io avevo chiesto spiegazioni riguardo ai risultati dell'elettromiografia. Che vi ricordate? Vi ho detto che mi ero molto preoccupata per questi risultati. Per quello che c'era scritto. Perché l'avevo cercato su Google. Eccetera eccetera. E sono andata a ricercare questa mail quando mi aveva risposto. E pensavo di girargliela appunto. Così a titolo informativo diciamo. Magari gli è utile avere l'opinione del reparto neuromuscolare riguardo a questi esami. Quindi già sinceramente ora la mia speranza è che una volta che vede queste cose mi dice Ah ok allora probabilmente è così. Però per scrupolo facciamolo ormai. Ecco quello che vorrei sentire dire. La mia speranza in realtà è questa. E comunque niente io gliela mando perché non ci vedo niente di male nel farlo. Ah non ce la faccio più. Sono veramente angosciata. Sono veramente tanto angosciata. Cioè a volte penso. Cioè nella mia vita precedente. O nelle mie vite precedenti dovevo essere veramente una persona orribile. Per dover soffrire così tanto in questa vita. Scusate. Allora mi sono vestito. Ho anche messo lo zainetto nuovo. Andiamo dai cinesi. Che devo prendere. Il cura lavastiglia che è un mese che lo voglio prendere. Mi dimentico sempre di prenderlo. Lo shampoo per Francesco perché è finito il suo preferito. E un'altra cosa. Qual è l'altra cosa? Ah un bastone per il mocio perché l'ho rotto. Siamo tornati. Siamo stati ai cinesi. Ho preso il bastone. Ho dovuto riprenderlo così di metallo. Lo volevo prendere di legno che durano di più ma non c'era. Quindi vabbè mi sono accontentata di questo. Poi ho preso lo shampoo per Francesco. Uno dei suoi due preferiti. C'era questo. Il pantone acqua light. O anche quello. Non mi ricordo come si chiama. Ma comunque sempre così trasparente. E poi il cura l'ho stoviglia. Ho preso questo qui della Winnie's. 1,99 euro. Poi sono stati al penny perché abbiamo deciso di mangiare la pizza stasera. E l'ho rimangiata seguendo il consiglio di una ragazza. Mi dicevo di cuocerla di più. E è andata bene in effetti. Quindi stasera pizza. Inzalata. Poi ho preso questi petali di grana da mettere sulla pizza. È il mentale. Tonno. Mascarpone. Gortenzola. Banane. Olive verdi denocciolate. Mozzarella di bufala. Le pizze. Pizza margherita. Pizza con verdure grigliate. E pizza al salano. Poi ho preso questo shampoo. Ops. Questo shampoo qua. Della ultradolce shampoo illuminante. Alla camomilla e miele di fiori per capelli chiari. È un formato famiglia. Bello grande sono. 600 ml. E costava 3 euro. 49 mi sembra. E niente. Ora che vado a fare la doccia lo provo subito. Ok. Docciata. Pigeomata. Stiamo preparando le pizze. E niente. Vi saluto. Vi ringrazio tantissimo della compagnia. E ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ciao. Ciao.